Oh, guardate indossato quanto è carino, con questa manica a tre quarti che termina con un elastico. Quindi insomma, questo elemento vezzoso e estremamente femminile che rende proprio questo abito dolce, delicato. Deliziosamente retro. Esatto, sembra un affresco... Lo dicevo prima con Chiara, che l'ha visto anche lei, mi ricordano alcune foto della mia nonna. Mia nonna era del 1920, quindi una ragazza di qualche anno fa, nelle foto da ragazza, lei da giovane. Quelle foto in bianco e nero, un po' su quei cartoncini rigidi. Con queste scolature che dovevano essere, diciamo, femminili, perché comunque anche loro avevano il vezzo di piacere. Ma rigorosissime, guai al mondo se si mostra... E beh, questo era... Questa è la soluzione perfetta. La lunghezza anche, qui lo vediamo indossato da Natalie, Natalie è 1,78 m, arriva al ginocchio e copre il ginocchio di Natalie. Quindi per voi sarà un abito midi da mettere con una décolleté, da mettere se volete con uno stivale quissar, se volete salire addirittura con lo stivale fino a metà gamba. O anche con le ballerine. Assolutamente sì, è molto carino. Garba, ho bisogno da te di un suggerimento, perché Marina ha acquistato i miei pantaloni a zampetta, vuole abbinarli alla tunica, quella con l'oblò, non riesce a trovarla e ha bisogno del codice. Ci aiuti? Così accontentiamo Marina. La tunica con l'oblò, certo, adesso rivedremo.